Musica Sabato 18 marzo, buongiorno con TRG Mattina, la rassegna stampa dei quotidiani in edicola Purtroppo c'è un nuovo caso, un presunto caso, gli ultimi accertamenti diranno i dettagli particolari di quanto è avvenuto nel Viterbese Un probabile omicidio-suicidio, uccide l'ex ragazza e poi si spara il titolo del Corriere dell'Umbria per un fatto Una notizia che troviamo ovviamente in tutti i quotidiani Ancora con il Corriere dell'Umbria, Morbillo, Focolai, casi in aumento, preoccupante, rapporto inviato a Palazzo Donini sul rischio contagio anche nel cuore verde Poi vedremo nella seconda parte, nello sport, il bel successo del Perugia nell'anticipo con il Benevento Giovane uccide la ex fidanzata, poi si toglie la vita dentro l'auto, siamo alla Nazione Pare che la ragazza di Vasanello nel Viterbese avesse da poco chiuso la relazione, l'Umbro, infatti lui è originario di Amelia Le aveva chiesto un ultimo appuntamento ma si è presentato con la pistola, entrambi erano 28enne Poi la presentazione ieri a Perugia dell'iniziativa L'Umbria si rimette in moto, rimettiamoci in moto Il 25-26 marzo saremo invasi da Centauri per il primo fine settimana di primavera Altri spunti ovviamente nella prima pagina Andiamo al messaggero, anche qui uccide la ex fidanzata e poi si spara Le vittime sono Silvia Tabacchi, 30 anni, Francesco Marigliani di 28, lui le ha sparato un colpo di pistola e poi si è ucciso Aveva il porto d'armi per uso sportivo, l'arma comprata il giorno prima Questo è avvenuto nel giorno in cui c'è stata la richiesta di Ergastolo al marito di Raffaella Presta La donna, ricorderete, uccisa nel quartiere Bellocchio a Perugia dal marito Francesco Rossi Reo Confesso, a cui la PM Manuali contesta anche le aggravanti della premeditazione Anche questo lo vedremo tra poco E allora subito con questo fatto di cronaca che ha segnato due regioni di fatto L'Umbria e il Lazio Allora, trappola mortale per l'ex, le spara e poi si ammazza I corpi di Francesco Marigliani, di Amelia e Silvia Tabacchi, di Vasanello Ritrovati nell'auto da un ciclista Si tratterebbe dunque di un omicidio e suicidio Il ragazzo avrebbe fatto fuoco con una pistola contro la ragazza Poi si sarebbe ucciso con la stessa arma A trovare i cadaveri dei due ragazzi Un ciclista che si trovava a transitare nella zona per una sgambata pomeridiana Lo stesso avrebbe chiamato i soccorsi Dicendo che c'era un'auto ferma in uno spiazzo con all'interno due cadaveri Sotto shock gli abitanti di Macchie Francesco infatti per anni aveva lavorato in un bar Non aveva accettato la fine della relazione Tra l'altro iniziata tanto tempo fa addirittura sui banchi di scuola E ancora, storie maledette Vittime donne e bambini Un escursus nel passato Dall'incontenibile gelosia a sigillo Nelle 2005 Poi la follia di due padri a Passignano e Umbertide Alcuni casi riproposti all'attenzione dei lettori E poi, in primo piano, paura morbillo 37 casi in 14 mesi Il calo progressivo della copertura di vaccini Anche in Umbria a causa della recrudescenza della malattia Segnalati più focolai Sempre in tema di sanità La testimonianza di un ginecologo Non obiettore alla presentazione del libro dell'ex ministro Livia Turco Non praticavo aborti Poi ho cambiato idea E sempre, restando in ambito sanitario Manca la programmazione dura a fondo Dei sindacati indipendenti Responsabili della FSI Chiedono interventi su liste d'attesa Personali e rapporti con l'università Sempre in primo piano Tempi delle sale in sala d'attesa L'agenzia delle entrate promossa dagli utenti La durata della coda di solito non scende sotto la mezz'ora Ma i cittadini sono soddisfatti per la qualità dei servizi Infine alla Val Nestore L'inchiesta infinita sull'inquinamento ambientale Un pozzo nero a margine dell'ex discarica È stato scoperto durante i primi interventi Nell'area posta sotto sequestro Nell'inchiesta E poi la bella notizia Per quanto riguarda le zone colpite dal terremoto Si ha il danno indiretto Stanziati 23 milioni per imprese e famiglie Una buona notizia per la Val Nerina Per il danno indiretto stanziati per ora 23 milioni Non possiamo che esprimere soddisfazione Sono le parole di Marina Sereni Del Partito Democratico Eccoci alla Nazione Nel dorso nazionale Ovviamente il fatto di cronaca nera Di Vasanello Sciocca Viterbo Non mi lasci La uccide e si spara La trappola dell'ultimo incontro Il 28enne aveva appena preso il porto d'armi Appuntamento fatale Vuole parlarmi Devo vederlo Una discussione Poi lui ha fatto fuoco Queste le prime ricostruzioni Di tutt'altro segno L'altro servizio Riportato nelle pagine nazionali Le moto salveranno l'Umbria Turisti in sella contro le scosse Un evento dedicato agli appassionati Delle due ruote Appuntamento dunque al 25 e 26 marzo Quindi il prossimo fine settimana Con tanti itinerari in tutta la regione Nel dorso regionale L'altro fatto di cronaca Che è già nel proprio interreggio di ziario Raffaella Presta venne assassinata Mentre il figlio faceva il bagnetto Ammazzò la moglie fucilata Il PM chiede l'ergastro Per Rosi Il pubblico ministero Contesta le aggravanti Della crudeltà E della premeditazione Poi un altro omicidio Quello di Meredith Continua ancora a far parlare di sé Perché Parlare l'avvocato Che ha difeso sollecito Sulla presenza di Rudy A Perugia Subito espulso Appena espiata Questa la richiesta Infine aggredito Prima dell'omicidio Polizzi Menenti Si oppone all'archiviazione Denunciato un amico della vittima Padre e figlio Aspettano che venga fissata L'udienza in le corte di Cassazione Questo dunque con Con le fai fatti di cronaca Segnaliamo anche Nuovi lavori Lungo la Perugia A Bettole Torna l'incubo Lavori Sarà una settimana di passione Da martedì sera Sabato Mattina Cantiera Sulle viadotto Genna Tra Madonna Alta E ferro Di cavallo Con il messaggero Andiamo Nei servizi A rilevanza nazionale Ovviamente Nelle pagine di Terni C'è La trattazione Dell'omicidio Suicidio Nel Viterbese Per quanto riguarda Invece l'omicidio presta Progettò di uccidere Ergastolo Ergastolo La richiesta Del PM manuali Il massimo Della pena Per il marito Lo scontro Sul blackout E il fucile Ancora battaglia Per gli immobili E come detto Ampio spazio Nelle pagine di Terni Su quanto è successo Nel Viterbese Le chiede L'ultimo incontro Poi le spara Francesco Marigliani D'Amelia Raggiunta a Vasanello L'appuntamento era alle 16 Forse una lite Poi l'omicidio Suicidio A scoprire la tragedia Un ciclista Il 28enne Aveva acquistato la pistola Solo il giorno prima Non rispondevano i familiari Trovati senza vita Dai vigili Del fuoco Questo è successo A un uomo di 47 anni A strada Fontana Della Mandorla E una donna di 62 In via Serrati Noi torniamo Al Corriere dell'Umbria Per l'esame Delle pagine Dedicate ai territori Partendo ovviamente Da Perugia Dove si discute Sulla regolamentazione Degli accessi All'acropoli Piccolo segnale Contro l'isolamento ZTL più aperte Parcheggi meno cari Comercianti Non cantano vittorie Anche se la novità Comunque aiuta E poi La cronaca Anche qui Picchiano il cane Fuggono con l'oro Padri Ladri in azione In pieno giorno In un appartamento Situato in via Della Pescara Ricco il bottino Poi come abbiamo visto Chiesto l'ergastolo Per Francesco Rossi Nell'omicidio Del bellocchio Sempre dal tribunale L'amante tradita Perseguita il suo ex Era riuscita a controllare Attraverso alcuni profili Facebook Tutti i movimenti Dell'uomo Video 3D Luci, LED Passarella in vetro E acciaio Un nuovo allestimento Per il Pozzo Etrusco Il restyling Di uno dei luoghi Simbolo della città Va avanti E l'inaugurazione Alla presenza Delle autorità E dei cittadini Ancora con i territori Andiamo ad Assisi Dove il calendimaggio Diventa più interattivo E pubblico Ecco Mercatino Mostra sui costumi E artisti Di strada L'amministrazione Ha raddoppiato i contributi A disposizione della festa Portandoli a 80 mila euro Da Bastia La ludoteca comunale Cambia casa E si sposta in Piazza Pertini Città di Castello O meglio Siamo al tribunale di Arezzo Perché ieri era possibile La sentenza per l'omicidio Dello Marino Invece Il GUP Dispone la perizia Il giovane si lascia interrogare Ma il giudice si convince Che serve a un esame psichiatrico Peter rivede il cane Il PM chiede i 15 anni Il GUP dispone La perizia Niente sentenza Per l'omicidio di Katia Ma perizia psichiatrica Perizia medico Legale Così ha deciso il GUP Dopo aver sentito Per la prima volta Il 25enne Raccontare per filo e per segno Il massacro della 39enne Di Sansepolcro Ancora cronaca Tragico malore alla guida Muore a 57 anni Schianto sulla rotatoria A pochi metri dall'ospedale Era pensionato E abitava da solo A Cadellepre Sempre la città di Castello Quei piloni in via Romolo Carbini Fanno venire qualche cattivo pensiero Le gabbie in ferro Ormai sono uscite dal cemento Su quel tratto passa La trafficatissima E 45 Il 25 aprile Il concerto di Marco Masini Al Palasport Ricavato andrà Le popolazioni colpite Dal terremoto E poi da Umberti Del Teatro dei Riuniti Troppo chiuso Il Movimento 5 Stelle Attacca e fa le pulce All'amministrazione comunale Sulla cultura A Gubbio Esperti e non Si mettono intorno a un tavolo Per valorizzare L'oro di Gubbio La cultura Quattro temi importanti Che saranno affrontati Ad aprile Nella due giorni Di convegno workshop Presentata ieri Appuntamento dunque Il 7 e l'8 di aprile Ancora da Gubbio All'ora di cena I ladri si presentano A Branca Padule Torre dei Calzolai In un caso Inseguiti tra i campi Dai residenti Oggi ricordiamo L'appuntamento Con l'inaugurazione Della 36esima edizione Del Festival Nazionale Delle Scuole di Danza Renato Fiumicelli Andiamo a Gualdo Dopo il Calai Lavori alle Asp Presciutti annuncia La ristrutturazione Dell'edificio Di via 5 Luglio E ancora Da Gualdo Dal Rotary Un modulo per la scuola Di Norcia L'iniziativa Nei giorni scorsi Ano c'era Nella città dell'acqua Arrivano giornalisti E blogger straniere Non manca L'azienda americana Delegazione accolta Anche dai figuranti Dell'ente Ancora insegnare Le insidie del cyberbullismo Ai genitori Giovedì alle 16.30 Al Sigismondi Il convegno I pericoli della rete Presenti Porzi Zago I sindaci E una psicologa Da Foligno Si risparmia Con i super lampioni Rampa di lancio Il progetto Per riqualificare L'illuminazione pubblica Con le tecnologie Nel dettaglio Le vie Interessate Poi insieme Per far vivere Il parco fluviale Domani Il simpatico evento Ideato da Tommaso Merendoni Elessio Monarca Ieri si è parlato Di ricostruzione Consapevole Con i geologi In campo A Palazzo Trinci Per un interessante Confronto Sulle linee guida Da adottare Per la prevenzione Sismica Invece C'è ancora Temperatura alta L'Oma Tonti Perché la protesta Non si placa Avanti con Gli scioperi A singhiozzo I sindacati Dicono Nessuna risposta Alle nostre Preoccupazioni E poi La Quintana Perché Per garantire Un futuro Alla Quintana Un ruolo più forte Delle istituzioni Il presidente Metelli E il sindaco Mismetti Illustrano L'obiettivo Del summit In programma Al San Domenico E Il prossimo Giovedì Alle 20 e 30 Gli stati generali Della città Di Foligno Per la giostra Della Quintana Questo è il nome Dell'iniziativa Con la nazione Ancora Ripartendo Da Perugia Per l'esame Appunto Delle d'Orso Regionale I due partiti Della ZTL Anche qui C'è l'urbanistica E la politica Del centro storico In primo piano Nuove ruoli E scontri Sulla sosta Fanno discutere E sconto Tra residenti E commercianti E poi La presa di posizione L'assessore Casaioli Mezzi pubblici A fondo del comune Poche risorse La regione ci snobba Spero che le navette Notturne Durino a lungo A proposito L'iniziativa Che è in partenza Bullismo Trasversale E diffuso Un fenomeno Che mette paura Studenti del classico Mariotti A lezione di sicurezza Con il Questore Il regalo Di Buitoni Alla galleria Così splende L'annunciazione Un prezioso Lascito Dell'imprenditore Mecenate Perugino Sempre con i territori Eccoci ad Assisi Il calendio Maggio Raddoppia Venti per coinvolgere Turisti Comune ed Ente Insieme Per rendere Più forte La festa Da Gubbio Trasporti Turismo E patrimonio Così rilanciamo La nostra città Il sindaco Stirati Punta solo A due giorni L'oro Di Gubbio Intanto Il Festival De Scuole Di Danza Fiumicelle La nuova edizione Pronta a partire Inaugurazione Al Teatro Ronconi Oggi Alle 18 Oggi Altro appuntamento Importante La tradizione Dei focaroni Quest'anno In una nuova Veste Per iniziativa Dei quattro quartieri L'accensione Avrà Sarà Avrà luogo In maniera Coordinata Si inizia alle 19 15 Il Largo Menichetti Dove si raggiungerà Il luogo Dei vari Focaroni Tutti i dettagli Li trovati Anche nel nostro sito trgmedia.it Da Gualdo Interventi straordinari Sulle strade Stanziati 40 mila euro Per i lavori Di riqualificazione Sempre da Gualdo Eventi e musica A Corcia Che festeggia San Giuseppe Dall'Alto Tevere Una doppia perizia Per Peter Katia Sorpresa Slitta La sentenza Dal gruppo di Arezzo Il colpo di scena In aula Il racconto Shock Esame psicologico Un altro medico legale Era la richiesta Fatta dalla difesa Da Tiferno Insieme Strumenti innovative Per contrastare Le dipendenze Questa è la richiesta Andiamo ad Umbertide Centro vuoto Attività agonizzanti La Lega Nord In calza il comune Poi tutti al motor ad uno Della solidarietà L'appuntamento In piazza Matteotti Da sempre la città di Castello Si sente male Menta al volante Mora agricoltore Di 57 anni L'auto del poveretto Finisce contro il guardrail Inutili i soccorsi Intanto tutto pronto Per la discesa del Tevere Un appuntamento Che si rinnova ogni anno Gare nel weekend Con oltre 500 partecipanti Poi detto del concerto Di Marco Massini A Foligno Giunta Si profila un nuovo rimpasto Scricchero alla poltana Trono di Belmonte Tra i possibili sostituti Stefania Mancini E Francesco Angelucci Manovre prebilancio Per avere i numeri necessari A votare il bilancio Sarebbe stato trovato L'accordo Col PSI Montefalco Pedalata per gli studenti In attesa del Giro d'Italia Poi la Oma Tonti Sciopera Singhios E mobilitazione dei lavoratori Da Spoleto Flop per le presentazioni di Pasqua A Foligno invece Quintana Stati generali Per il rilancio Mobilitazione In attesa Del verdetto Dell'UNESCO Con Il messaggero Perugia ZTL Già battaglia Su orari Varco in Piazza Italia Tenca della società operaia Dice operazione di facciate Scelte allucinanti Non può decidere tutto La consulta Per il centro Ci sarà più confusione Insomma Il dibattito È forte Poi ancora con le pagine di Perugia Vandali bloccati con il daspo urbano Si muove il comune Gestione della sicurezza Perugia gioca la carta Prevista dal decreto Minniti Accesso Un testimone della guardia di finanza Un testimone per lo scandalo Fatture Circostanze precise e nomi Per indirizzare i finanzieri Passati al settaccio Documenti ritenuti Fasulli Anche del 2010 Verifica sulla contabilità Dell'anno In cui il rosso blu Sono stati promossi in serie B Il caso prescrizione E poi da Deruta Si droga A 65 anni Presso spacciatore Città di Castello Con l'auto contro il cadere Il mora 57 anni Siamo a Folligno Ente giostra E comune Patto di ferro Per la Quintana Metelli dice La manifestazione deve essere garantita Dalle istituzioni La firma Un documento di impegno Solenne Per il futuro E poi terremoto E rilancio dei territori Come abbiamo visto Ieri Al centro di un importante Incontro a Palazzo Trince Poi ammanniti Fior di Ponti Solo fino alle elezioni Mentre nuovi nomi Per il croce bianca Queste per restare al tema Quintana Nella pagina di Umbria Regione Galleria Nazionale Un tesoro in più Con il regalo di Buitoni Lascita Un dittico del portoghese Alvaro Pires de Evora La Borletti dice Per mio marito L'arte era motivo Di infinito interesse Il titolo dell'opera Composta da due parti L'annunciazione Torniamo al Corriere dell'Umbria Per le pagine Di Economia Dove c'è la Thyssen Krupp In primo piano Fusione agli sgoccioli Tra Tata Stile Thyssen Il governo deve Vigilare A parlare Il senatore Rossi Del PD Che invita l'esecutiva A seguire da vicino La vicenda Salva guardare Le produzioni di Inox E i lavoratori Del sito Ternano Questa è la richiesta E poi Direttamente alla sezione Spettacoli e cultura Premio prospello Gram di personaggi Alla ribalta Oggi alle 17.30 Al teatro Subassio Appuntamento dedicato Che è saltato Il nome della città In Italia E nel mondo E poi come ha detto Un'annunciazione Che parla di Franco Celebrato ieri L'arrivo in galleria Dell'opera Di Alvaro Pires De Evora Intanto Segnaliamo L'appuntamento Con Michele Bravi Ospite del centro commerciale Di Collestrada Con la nazione Anche qui Andiamo a vedere Le pagine di economia Dal dorso regionale Dove ci sono gli spunti Che interessano La nostra regione Lo vediamo con l'ex novelli La prognosi è riservata Ora si teme anche Per gli stagionali I grillini chiedono Di fare chiarezza Sugli aspetti legali Della cessione Segnaliamo Una nomina importante A Confindustria Nella meccanica Calderini Confermato Al timone E poi Con il messaggero Per chiudere Con la pagina Di giorno e notte In giro Tra note ed autore Con Caposera Vicino al sold out Ecco Mecna Elio Cagnizzi Cesare Vincenti Da Perugia Big Band I bartender La festa D'Irlanda Tutto Nell'agenda Degli appuntamenti E poi Oggi Segnaliamo Anche oggi e domani Test drive Con le nuove stelle Classe E poi il teatro Si aderuta Altro appuntamento Per il fine settimana Con questo noi ci fermiamo Per un breve stacco pubblicitario Tra poco Di nuovo insieme Con le pagine Di sport Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti